La formula dell'innovazione io credo che sia duplice, cioè dall'alto e dal basso, dall'alto con la ricerca, i laboratori, i bravi ricercatori, gli investimenti e dal basso con la costruzione continua di una cultura scientifica sostenuta anche dalle persone comuni, noi abbiamo bisogno di ricordarci che siamo in un'epoca meravigliosa in cui c'è tanta tecnologia e tanta informazione e si possono fare cose che prima non erano possibili e questo ha bisogno di un sostegno continuo da parte nostra, diamoci giù di ricerca ma anche di divulgazione, di comunicazione, il sostegno deve arrivare dal basso e io credo che faremo veramente miracoli in questo senso se questo avverrà.